L'Abruzzo si attesta come ultima regione nell'uscire dal grado di diffusione, dall'indice di diffusione del coronavirus, come ultima regione a utilizzare le risorse della cassa integrazione, come ultima regione a dare i contributi alle famiglie in più perché la regione ha scelto una strada tortuosa e come ultima sulla rimodulazione. E' impietoso il giudizio di Silvio Paolucci, capogruppo in regione del Partito Democratico, su come la regione sta affrontando l'emergenza. Le aziende sono chiusi, i lavoratori a casa, 54 mila le richieste di cassa integrazione, ma finora il compenso è arrivato solo a 264 persone. Abbiamo da subito contestato il gravissimo ritardo con il quale il governo regionale, la giunta regionale e l'assessore Fioretti avevano concluso e sottoscritti gli accordi, alla fine di marzo addirittura, e avevamo ulteriormente criticato che senza un accordo con le banche le risorse sarebbero arrivate con estrema lentezza. Purtroppo i fatti ci hanno dato ampiamente ragione. Intanto hanno sottoscritto in estremo ritardo l'accordo sulla cassa integrazione. In secondo luogo non hanno avviato nessuna discussione con gli istituti di credito e pertanto le risorse non arrivano. L'assessore al lavoro, Piero Fioretti, dà la colpa a un quadro normativo in continua evoluzione che ha costretto la regione a diverse modifiche. Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, chiede scusa. È evidente, ha affermato Sospiri, che sono stati fatti degli errori. La missione di colpevolezza però non basta al PD, che chiede ulteriori misure senza far pagare all'Abruzzo le battaglie politiche nazionali. Un altro rischio che noi stiamo denunciando ormai da diversi giorni e che tra poco troverà la luce, purtroppo, come l'emergenza sul Covid e come la vicenda della cassa integrazione, è quel bonus famiglie. Intestarditosi il presidente della regione, che risponde molto più alla Meloni che agli abruzzesi, nel proseguire quell'attacco al governo, quando Meloni e Salvini contestarono le risorse trasferite ai comuni, che in realtà sono già arrivate, decisero, per motivi nazionali, di trasferire direttamente sui codici IBAN, quindi sui conti corrente, le risorse che la regione metteva a disposizione. Noi scongiurammo, durante l'approvazione della legge, di non seguire questa patetica, perché parliamo di tragedie vere e proprie, di questo patetico scontro tutto tra regioni e governo nazionale al servizio della Meloni e di Salvini, ma al contrario di sommare le risorse della regione a quelli dello Stato, che tramite i comuni sarebbero presto arrivate. Nulla di tutto questo, chi sta facendo le domande per il cosiddetto bonus famiglie sta incontrando delle difficoltà enormi e come per la cassa integrazione, quelle risorse arriveranno tardi e male, ovvero non arriveranno agli obiettivi giusti, cioè alle persone più bisognose. Da ultimo anche per le imprese, avevamo chiesto liquidità immediata, anziché proporre una rimodulazione immediata, come hanno fatto alcune regioni che già lo hanno avviato, noi siamo ancora alla fase in cui questo comitato di studiosi dovrà determinare su quali assi indirizzare le risorse da rimodulare.